i cespugli dell'aloe e fiori, fiori ovunque. E così nacque la città di Akragas, l'odierna aggregento, in una pianura aperta a tutti i venti che spirano carezzevoli e gentili. Ed il greco conquistatore non tardò ad abbellirla con magnifici templi, piscine, stadi, edifici pubblici e sontuose case. Una nuova piccola Grecia, dove ancora si innalzano alti e solenni verso il cielo i magnifici templi dorici. Sulla Via Sacra eccoli in fila i templi mirabili, quello di Ercole, della Concordia e di Giunone. L'ammirazione di tutti va innanzitutto verso il Tempio detto della Concordia, quasi ancora intatto, solenne e pieno di grazie e di bellezza. Tanto che si va a vedere. Riaccendiamo la magia. Ciocomodica dal 7 al 10 dicembre, dove il cioccolato diventa magia. Dolce sentire, come nel mio cuore, pure, umilmente, sta nascendo amore. Presepe vivente di Ispica, nel nome di Francesco. 17, 25, 26 dicembre 2023, 1, 6, 7 gennaio 2024. 2, 6, 7 gennaio 2024. 3, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12. Banca Agricola Popolare di Ragusa Una storia orientata al futuro Aeroitalia è una nuova compagnia aerea italiana che si prende cura dei suoi passeggeri garantendo un servizio eccellente Aeroitalia vuole puntare sulla Sicilia valorizzando al massimo i suoi aeroporti Comiso, Catania e Palermo offrendo rotte di interesse turistico e commerciale con orari comodi e prezzi concorrenziali Sul sito aeroitalia.com è possibile scoprire tutti i voli da e per la Sicilia e acquistare i biglietti ai costi più bassi Aeroitalia, le nuove ali della Sicilia L'antica macina a Largo San Paolo a Ragusa Ibla ha una nuova gestione Lo chef Vincenzo, giovane ma con tanta esperienza maturata in Italia e all'estero vi aspetta per farvi gustare le sue specialità che esprimono i gusti della nostra terra con prodotti di grande qualità ma a prezzi giusti Dalla pizza ai primi tradizionali, al pesce sempre fresco, ai legumi riscoperti ora dalla gastronomia più quotata all'antica macina l'ambiente ampio e funzionale arredato in modo semplice per ospitare ogni tipo di clientela Antica macina, nuova gestione, nuovi prezzi più vicini alla gente Largo San Paolo, Ragusa Ibla Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione di TeleIbrea sul canale 89 Parleremo anche di arancine oggi perché sta entrando dicembre voi sapete che il mese di dicembre con Santa Lucia è particolarmente amato dagli appassionati delle arancine ma prima di tutto torniamo a parlare di ponte non sulla importanza di averlo o non averlo perché voi sapete alla fine noi non siamo nulla quindi non potremmo incidere ma come ricorderete c'è stata questa inchiesta di report che insomma in qualche modo ha messo in difficoltà l'idea ponte con i problemi con legambiente, con tutte le difficoltà che ci sono sia dal punto di vista geologico, sismico eccetera eccetera cosa è successo? Che immediatamente sono arrivate le truppe cammellate dell'organizzazione ponte perché non c'è dubbio di fronte a 12, 13, 15 miliardi come minimo è chiaro che ci troveremo di fronte ad un'organizzazione possente capace di fare chissà che cosa ed ecco che sono arrivate delle controinchieste cioè qualcosa che è stato organizzato dal punto di vista giornalistico per smentire quello che è stato detto dal programma di Rai 3 ora non è che questi non possono sbagliare, ci mancherebbe altro l'abbiamo visto tante volte fare degli errori può essere costretti a rimettersi in carreggiata però la cosa che è stata poi scoperta è che questa operazione anti-report in pratica è stata realizzata da un'azienda che in qualche modo è collegata con questa WeBuild che cosa vuol dire? è chiaro, loro hanno in Sicilia qualcosa come 7 miliardi di lavori e tra l'altro hanno lanciato un programma pensate per 10.000 assunzioni 10.000 posti di lavoro al sud che c'è dubbio che di fronte a 10.000 posti di lavoro e Compagnia Bella qualche idea può venire fuori per cercare di sminuire la forza che può avere un programma come Report poi abbiamo anche visto in verità che Report molte volte può dire quello che vuole perché tanto poi fanno quello che vogliono loro come il caso della Sant'Anché se a me personalmente avessero contestato un ventesimo delle accuse che sono state contestate alla Sant'Anché io già sarei in galera purtroppo è chiaro i governi sono i governi le persone politiche sono le persone politiche quindi non c'è dubbio che la loro forza si fa vedere in questo caso non è una forza politica ma è una forza economica di una ditta che come vi dicevamo ha quasi 7 miliardi di commesse ma arriverà anche di più in Sicilia e ha un piano di assumere 10.000 persone tra l'altro proprio l'altro ieri ha firmato l'accordo con i sindacati e con le organizzazioni ragusane per poter partire sulla Ragusa Catania quindi è una grossissima azienda che non abbiamo nulla da dire attenzione in questo caso questa grossa ditta italiana che ha commesso in tutto il mondo sta cercando permettetemi il termine di delegittimare l'operazione mediatica che è stata fatta dal programma di Rai 3 probabilmente o meglio io condivido l'idea di Rai 3 perché a me del ponte me ne frega poco nel senso che non so quanto tempo ci vorrà abbiamo un'esperienza di tante nostre imprese come quella precedente del ponte che si è fermata a fare un buco di 500 metri per 500 metri e poi non si è fatto più niente so quali sono le difficoltà le bugie che ha raccontato Salvini perché non pensate che quello di Messina va a prendere il ponte come se sale in ascensore e arriva dall'altra parte ci vorrà sempre del tempo e tutti continueranno a prendere il traghetto perché gli sarà più comodo e sicuramente anche meno costoso pensate e questo lo sanno tutti che sul traghetto che va da Villa San Giovanni a Messina e viceversa in pratica i passeggeri non pagano quindi quando prendono il traghetto la gente non paga vi immaginate fare questa operazione sul ponte chiaramente a piedi non si potrà fare bisognerà andare con la macchina non sarà un risparmio ma sarà un costo altissimo per tutti quelli che fanno i pendolari non abbiamo avvicinato secondo me la Sicilia e la Calabria per quel tipo di traffico che poi sul ponte si può viaggiare e quindi come ha detto Salvini considerando che sono 3 km e si va a 180 ma sarebbe meglio non andarci si impiegherebbe un minuto magari ci vai a 100 impieghi due minuti e mezzo certo due minuti e mezzo è tutta un'altra cosa ma i collegamenti sono particolarmente difficili io ho chiesto alla senatrice del 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 barbari la senatrice del del movimento 5 stelle che abbiamo ricordate era era Barbara Floridia che era candidata qualche mese fa alle elezioni regionali di partecipare ad una nostra trasmissione lo farà venerdì prossimo avremo questa intervista perché mi sembra che lei abbia avanzato dei temi molto scottanti sulla questione ponte lasciamo stare allora ne parleremo dopo cosa sta accadendo dal punto di vista economico allora io dico che abbiamo tantissima racina appesa lo ripeto sempre perché queste notizie che arrivano che mi dicono ah non ti preoccupare oggi abbiamo 0,1 in più del PIL ma noi non ce ne possiamo accorgere mai noi cittadini ci accorgiamo soltanto dell'aumento del costo della vita ora per esempio ci sono delle iniziative che fanno i supermercati che cercano di tenere bassi i prezzi di alcuni prodotti una cosa è incomiabile ma si poteva fare anche prima perché vuol dire che questi prodotti comunque io non credo che i supermercati ci appizzino i soldi sicuramente no hanno fatto speculazione ora per dare il contentino dicono ah vi teniamo la pasta ragazzi la pasta da noi nei supermercati non quella di grandi marche costava 60 70 centesimo al chilo poi siamo arrivati a 1,60 1,70 ora la stanno scendendo sotto l'1 euro ma per quale motivo questa pasta è aumentata come l'olio ricordate il discorso dell'olio che abbiamo fatto perché l'olio tunisino che poi noi consumiamo molto olio Europa extra Europa quindi Grecia Tunisia quella nelle bottiglie dei supermercati e ce la fanno pagare a 12 euro quando siamo arrivati come ha detto nell'intervista l'altro giorno per Pino Arezzo siamo arrivati qualche mese fa anche a 4 euro 4 euro è troppo poco ma non facciamo certo che queste cifre possano essere giuste a 12 euro detto questo dice va bene e allora e allora dicono gli aspetti che c'è una fiducia è stata riprendendo la fiducia nei consumatori ma anche nelle aziende insisto nel dire non vorrei che fosse come la questione della statistica voi sapete che come è il fatto ci siamo in due lo ripeto sempre uno si mangia un pollo la statistica dice che ci siamo mangiati mezzo pollo ciascuno però io non l'ho mangiato sono morto di fame quell'altro l'ha mangiato un intero e si è appanzato ma la statistica dice che le abbiamo mangiato mezzo ciascuno è probabile che alcune aziende che puntano su certe cose hanno un grande credito molte altre e ne vediamo tantissime che vanno a chiudere quindi io su questo prendiamo per buona la notizia vi faccio vedere il servizio ma poi esprimo i miei dubbi vediamo a novembre cresce la fiducia dei consumatori ma cala quella delle imprese lo rivela l'istat precisando che il clima di fiducia delle aziende cala per il quarto mese consecutivo raggiungendo il livello più basso da aprile 2021 al contrario l'indice di fiducia dei consumatori dopo quattro mesi consecutivi di calo torna ad aumentare pur mantenendosi al di sotto del livello medio registrato nel periodo gennaio ottobre 2023 l'evoluzione positiva è sintetizzata dai quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti il clima personale e quello corrente registrano gli incrementi più consistenti per quanto riguarda le imprese segnali contrastanti provengono dai quattro comparti economici analizzati dall'istat nei servizi e nelle costruzioni si stima una decisa riduzione dell'indice di fiducia mentre nella manifattura e soprattutto nel commercio il dato è in miglioramento vabbè fiducia ma la fiducia nei servizi che dà lo Stato noi siamo in Sicilia la Regione ce l'abbiamo questa fiducia o no? devo dire ben poca soprattutto per quanto riguarda il problema della sanità ieri abbiamo sentito l'assessore Volo l'assessora Volo che ci ha confermato che c'è una cattiva comunicazione però è la verità che ci mancano 1500 medici e che si stanno facendo dei bandi dove andiamo a chiedere di partecipare a cittadini non italiani europei ma anche extracomunitari quindi questa è la novità dobbiamo andare ad attingere ad altre forze perché non ce l'abbiamo i medici da noi e poi c'è il problema di alcune zone disagiate allora il Presidente della Regione ci comunica che ha studiato un sistema per dare un incentivo a quei medici che vanno a lavorare nelle zone disagiate ci sono comuni io non lo so magari sarà un posto meraviglioso ma mi ricordo quando ci vuole ad arrivarci conoscete Floresta Floresta è proprio sulla punta della strada che va dall'Etna fino ad arrivare al Mar Tirreno e lì a mille du mila quando sono c'è Floresta che è un bellissimo posto si mangia bellissimo ma certo sarà un po' disagiato come allora il Presidente della Regione ha detto gli diamo degli incentivi un'ottima cosa in questo modo possiamo cercare di risolvere il problema spendiamo meno soldi per fare stupidaggini e diamo soldi a chi invece serve ad aiutare a vivere bene nella comunità purtroppo la Regione ha come dicevo prima anche lei tanta racina a pezza soprattutto perché questa storia che ci sono gli assessori che poi sono anche deputati che poi quando si va a votare sono impegnati come è stata sempre una gran polemica questa anche nei comuni si è trovata l'escamotage del deputato supplente del consigliere supplente però devo dirvi che hanno rischiato di fare una cattivissima figura in questi due giorni anzi se poi oggi hanno ricucito per parlare di questo abbiamo chiesto a Peppe Lizio ma cosa sostiene Peppe Lizio sulla Assemblea regionale sentiamo a Peppe Lizio Grazie a tutti. 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 Alla prossima puntata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.